Claudio e Lorenzo hanno deciso all'ultimo momento di andare a Riccione, ovviamente insieme a Maria Vittoria, anche se non è una bella giornata. Noi siamo venuti al mare, non si sa la Mavi dove vuole andare, questa monella, hanno aperto tutto qui, dove hai oh, questa nana. Claudio e Maria Vittoria, questa mattina una bella passeggiata al mare, il tempo non è dei migliori, però se almeno si respira aria pulita.